Prosegue con successo allo Stabili di Potenza la terza edizione della rassegna teatrale Leon d'Oro, Gigino Labella. Dopo il grande successo di pubblico della scorsa edizione si replica anche quest'anno con un numero di compagnie salito vertiginosamente. L'edizione 2009 del Leon d'Oro, promossa da Città Cultura e dal Centro Artistico Basilicata, vede infatti coinvolte 20 compagnie provenienti da tutta la regione, alcune nate negli ultimi anni. Ieri, a calcare le tavole del massimo teatro potentino, il gruppo teatrale parocchiale a Cheruntino nato solo tre anni fa ad Acerenza. Kid Speranza Camb, Desperate Mur, lo spettacolo portato in scena, una commedia in due atti esilarante dal dialetto pulito e armonioso caratterizzato da una sottile e amara ironia che ha coinvolto il pubblico per la sua spontaneità e la caratterizzazione dei personaggi. Un'ora e mezza di puro divertimento che il pubblico ha gradito. Prossimo appuntamento con il Leon d'Oro domenica 16 maggio, quando ad esibirsi sarà il Laboratorio Teatrale di Picerno.